Quando penso alle primarie penso a delle persone che mi sembra di conoscere da sempre, sono delle persone a cui voglio bene. I giovani che sono entrati sono un grande orgoglio per me. In fondo è una specie di bottega dell'arte e reinventare una bottega dell'arte oggi nell'area digitale per me è un grande orgoglio. In fondo non mi piace il tecnicismo, a me piace la bellezza che viene da tante ore di lavoro che si dimentica nel momento in cui si vede. Sono le storie delle persone che cambiano i prodotti, gli abili. Le mani parlano di storie personali, parlano delle persone. Dietro le loro mani vedo le loro storie, dietro quelle mani conosco le persone. La sera spesso sono contento di quello che ho fatto e questo mi piace. Per Paolo